Mantovani, ancora Piovanelli, Lancio Lungo, a seguire molto bene ed è la rete del Treviso. È stato Buffone che ha insaccato per il Treviso un'azione partita dai piedi di Mantovani. Poi la palla è andata a finire a De Pieri e De Pieri ha servito con molta intelligenza Buffone e per la punta trevisana è stato un gioco da ragazzi infilare la porta di De Rossi.